buongiorno a tutti allora ho visto il Gran Premio in ritardo naturalmente perché lo vedo indifferita e Gran Premio di Spagna di Formula 1 e a parte la partenza di cui parleremo subito è stato un Gran Premio abbastanza noioso comunque veniamo alla partenza pronti via e Grosjan dopo un po' che non ne combinava una delle sue ne ha combinata una delle sue perché praticamente in curva è andato un po' troppo lungo e anziché lasciare che la macchina uscisse di pista lasciare passare le macchie per rientrare cosa ha fatto ha cercato di rientrare subito in pista il problema è che la macchina gli si è girata lui è andato praticamente in testa coda in mezzo alla strada ha iniziato a fare fumo è finito dall'altra parte del tracciato ed è stato preso da due macchine fortunatamente solo due mentre le altre riuscivano un attimino a schivarlo mentre lui andava in testa coda in mezzo alla pista con le macchine che arrivavano e praticamente fortunatamente ha mandato fuori pista solo Gasly e Hulkenberg che l'hanno preso di su foro diciamo che Hulkenberg con la Renault ha provato più possibile a schivarlo ma alla fine l'ha toccato dentro con la ruota quindi e Gasly l'ha preso in pieno perché anche lui stava arrivando si era spostato ma l'ha preso quindi cinque giri in regime di safety car due macchine messe fuori e il gran premio riprende al sesto giro con queste posizioni primo Hamilton secondo Vettel che in partenza ha fulminato tra virgolette Bottas è riuscito a sorpassarlo subito poi dopo vabbè dietro hanno fatto il disastro quarto Raikkonen che ha tenuto la sua posizione quinto Vestafen sesto Ricciardo settimo Magnussen ottavo Sainz nono un ottimo Leclerc e decimo Ocon diciamo che non succede granché fino al sedicesimo giro in cui cominciano i pistop e il primo ad andare al pistop al diciottesimo giro è la Ferrari di Vettel con gomma bianca comunque al sedicesimo giro la classifica era abbastanza immutata perché avevamo sempre Hamilton al primo posto Vettel al secondo Bottas al terzo quarto Raikkonen quinto Vestafen sesto Ricciardo settimo Magnussen ottavo Sainz nono Leclerc e decimo Alonso che aveva surpestato Ocon come dicevamo al diciottesimo giro primo pistop per la Ferrari con Vettel che mette gomma bianca naturalmente al ventesimo perché era al diciottesimo inizio diciannovesimo che Vettel si è fermato al ventesimo è andato a cambiare le gomme anche Bottas gomma bianca però esce con dietro a Magnussen e a Vettel quindi poi Vettel sorpassa subito Magnussen mentre Bottas stava uscendo dal box Vettel l'ha visto arrivare ha sorpassato subito Magnussen in questo modo ha messo Magnussen tra sé e il suo avversario quindi Vettel lo abbiamo al quinto posto Magnussen al sesto e Bottas al settimo però hanno fatto il pistop al venticinquesimo giro primo colpo di scena perché problemi per Raikkonen che perde la potenza alla sua Ferrari ed è costretto al ritiro riesce a portarla comunque ai boss evitando problemi di sefiticaro o altro finalmente al ventiseiesimo giro pistop anche per Magnussen anche lui con gomma bianca però esce dietro a Vestafen quindi non riesce a fare tutta la gara al primo posto deve accodarsi dietro a Vestafen al 34esimo giro abbiamo il pistop di Ricciardo che poi rientra anche lui con gomma bianca mentre intanto c'è un attimino di schermaglio un po' di divertimento per le posizioni tra l'ottava e l'undicesima con un piccolo trenino che vede Ericsson davanti a Sainz a Leclerc e ad Alonso con Alonso che prova a superare Leclerc senza riuscirci e Sainz che prova a fare lo stesso con Ericsson senza riuscirci però almeno vediamo un attimino di bagarre chiamiamola così perché francamente non succede quasi nulla 35esimo giro anche Vestafen rientra con gomma bianca e quindi adesso dopo che più o meno tutti anzi tutti hanno fatto il pistop abbiamo questa classifica sempre primo Hamilton secondo Vettel terzo Bottas quarto Vestafen quinto Ricciardo sesto Magnussen settimo Sainz ottavo Leclerc non Alonso e decimo Perez al 41esimo giro abbiamo il ritiro di Ocon per probabile rottura del motore perché mentre si fermava si è visto un attimino di fumata bianca siccome è costretto a fermarsi in un punto un attimino pericoloso virtual safety car e la Ferrari ne approfitta per mandare Vettel al pistop e si ferma per mettere nuovamente gomma bianca ahimè perdono un attimino troppo tempo ai box e la Ferrari di Vettel rientra dietro a Bottas a Hamilton naturalmente al primo posto ma anche a Bottas e Vestafen e da secondo passa al quarto posto un piccolo colpo di scena con Vestafen che rompe un pezzo degli ala anteriore e automaticamente fu fuori alla gomma di Sirokin che è costretto ad andare ai boss e fa pure un piccolo testa a coda in pista meno male non c'era nessuno riesce comunque a tenere la macchina rientrare ai boss e cambiare le gomme perché ahimè si sono toccati l'aletta dell'anteriore sinistra di Vestafen con la gomma posteriore di Sirokin perché probabilmente Vestafen stava provando a fare il doppiaggio ha sbagliato un attimino è andato a toccarlo poi vabbè il pezzettino riesce a eliminarlo e riesce a finire comunque la gara anche se un pezzettino di di alettone anteriore è saltato comunque al 45esimo giro la classifica è sempre più o meno la stessa con Hamilton al primo posto, Bottas al secondo, Vestafen al terzo, Vettel al quarto, Ricciardo quinto, Magnus è sesto, Sainz al settimo posto, Alonso che è riuscito in ripartenza dalla safety car virtual safety car, a sorpassare finalmente Leclerc che ha fatto una gran gara e al decimo posto abbiamo Perez. Quarantasettesimo giro c'è anche il ritiro di Stoffel van Orn che ahimè comunque non era tra i primi dieci posti e poi dal quarantasettesimo giro abbiamo solo un tentativo vano di Vettel per raggiungere Vestafen e il sorpasso di Perez sull'Eclerc che gli soffia il nono posto. Quindi la classifica finale dopo 66 giri, vede Hamilton al primo posto, Bottas al secondo e Vestafen al terzo, primi tre, Vettel che ahimè non riesce a portare per la prima volta quest'anno la Ferrari al podio, quarto, quinto Ricciardo, sesto Magnus, il settimo Sainz, ottavo Alonso, nono Perez e decimo Leclerc. La classifica piloti vede Hamilton primo con 95 punti, Vettel secondo con 78, Bottas terzo con 58, Reconen quarto con 48. Quindi Mercedes Ferrari, Mercedes Ferrari. Al quinto abbiamo Ricciardo, al sesto Vestafen, quindi dietro le due Red Bull, poi un ottimo Alonso a 32 punti e poi ancora dietro Hulkenberg con 22, Magnus a 19, poi non ho messo tutti gli altri che sono a pochi punti. Comunque Ricciardo a 47 punti, Vestafen 33, Alonso 32, sono tutti abbastanza lì vicini. Però Hamilton comincia ad avere già 17 punti su Vettel e vedremo poi cosa succederà al prossimo Gran Premio, che è il Gran Premio di Monaco e sapete benissimo che a Monaco ne succedono sempre delle belle. Bene, come dicevo, Gran Premio abbastanza noioso. Hamilton ha fatto probabilmente anche il giro veloce, forse è stato battuto da Ricciardo dal suo compagno Bottas, però comunque ha fatto una gara da primo e a parte quel momento in cui si è fermato per cambiare le gomme e le Red Bull sono rimaste in pista, per il resto gara tranquilla per lui, vittoria tranquilla. Ha sofferto forse un po' di più nelle qualifiche perché praticamente ha preso la pole per 40 millesimi sul suo compagno di squadra, poi per il resto gara praticamente in mano dall'inizio alla fine e se va avanti così diventa dura anche quest'anno battere Hamilton. Staremo a vedere cosa succederà appunto a Monaco nel prossimo Gran Premio. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!